Allora amici buongiorno intanto oggi siamo entrati proprio in questo gioiello Vista Lago che è il Vista è un gioco di parole ma devo dire grazie anche ai dirigenti Cristina Zucchi che è la General Manager buongiorno di questo prestigioso e bellissimo hotel che si affaccia sul lago di Como siamo praticamente facciamolo vedere sul Lungolago sotto di qua c'è il Lungolago Piazza Cavour allora perché siamo venuti al Vista perché in questi giorni e loro ne sono felici ovviamente hanno ricevuto l'Oscar del turismo è corretto Cristina? Vero Ecco bella sta cosa gratificante emozionante e poi usa qualche altro aggettivo come la vista che offriamo uno dei premi più prestigiosi nel mondo dell'Hospitality è un premio molto interessante perché risale al 1993 quindi da allora ogni anno vengono premiati a livello mondiale ecco perché è importante sottolineare anche questa cosa non è che siamo a livello nazionale che pure era importante ma stiamo parlando di strutture mondiale che nei vari segmenti insomma in diverse macro aree mondiali vengono premiate in diverse categorie la cosa interessante di questo premio è che è un premio online aperto a tutti è molto democratico e quindi molto credibile quindi sono le persone che ci votano tutti gli attori del mondo dell'ospitalità del turismo quindi il riconoscimento Cristina è arrivato direttamente dai vostri clienti? anche certo assolutamente sì tra insomma noi eravamo nominati tra 17 nomi colleghi eccellenti insomma dell'ospitalità italiana quali ad esempio il Bulgari di Milano, Daman di Lenzia, il Belmond di Portofino 17 e noi siamo stati votati come il miglior hotel e quindi ovviamente siamo molto felici il vista ecco ripeto il vista che è un gioco di parole Cristina perché non è solo ma ha una vista meravigliosa diciamo che il nome prende ecco il nome arriva da questa vista qua dalla vista fantastica che si gode da quest'ultimo piano ecco questo è l'ultimo piano però l'ultimo piano dove abbiamo un ristorante e ovviamente si gode anche da tutte le nostre 18 lussuosissime suite che abbiamo nel nostro albergo suite che sono in affaccio diciamo così sul nuovo lungolago che vedete qua sotto di noi dove c'è anche la biglietteria certo c'è anche la gru e i lavori del cantiere che non è ancora concluso perché speriamo se posso aggiungere aver vinto questo premio in anni così difficili post pandemia post pandemia ma con i lavori perché il cliente purtroppo cioè noi ovviamente il nostro team si impegna tantissimo per far sì che ogni cliente abbia un'esperienza straordinaria però poi ovviamente quando esce e quando si affaccia la finestra non è poi così straordinario quindi averlo vinto in questi insomma in questo anno non particolarmente facile dal punto di vista così di vista ecco ovviamente ci inorgogliose di più insomma una cosa importante Cristina magari se vogliamo anche mostrare ecco voi curate mi passa i termini in maniera quasi maniacale assolutamente maniacale ecco maniacale allora ok via il quasi curate in maniera maniacale i dettagli magari facciamo vedere il salone qua del ristorante Cristina spiegandolo poi ovviamente ci sono le suite come hai detto c'è questa vista pazzesca e meravigliosa però ecco il vista ecco ha questo DNA che voi curate tutto nei dettagli ci piace curare tutto nei dettagli così come ci piace curare il cliente in maniera maniacale coccolarlo far sì che viva davvero un'esperienza straordinaria unica che insomma che poi riesca a portare con sé per sempre ecco questi sono i tavoli i nostri tavoli il nostro ristorante abbiamo pochissimi coperti ma ovviamente avendo poche camere insomma questi sono magari ci accomodiamo qua e chiudiamo esatto il nostro incontro con Cristina Zucchi che sono riservati ai nostri clienti che ecco a proposito deliziano di una cucina eccellente del nostro super chef Stefano Mattara e del servizio del nostro maestro Dario Munaretto e di tutti i loro collaboratori i clienti li chiudiamo da dove arrivano? arrivano principalmente dagli Stati Uniti ovviamente noi abbiamo una clientela straniera internazionale principalmente il mercato principale ovviamente è l'americano seguito dal mercato europeo quindi una parte di Germania, Francia, Inghilterra una grossa fetta dalla Svizzera qualche italiano e un altro mercato molto importante per noi che aumenta di anno in anno è anche il mercato arabo ah perbacco e quando se ne vanno dal vista Cristina oltre a dire beautiful che cosa vi lasciano? qual è il complimento? la cosa che vi inorgoglisce di più? il complimento perché insomma come nel mondo è anche questo Cristina quando ci dicono che hanno che sono stati benissimo che hanno vissuto un'esperienza straordinaria grazie a tutti